E per tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati su Roblox in compagnia di Giussi Eppo e di Ciro Oggi faremo il Tycoon di Sonic Si, non c'è alcuna di Sonic Cosa? Ah, è vero Quindi già spavate gli auguri perchè, mi sa che questo video lo caricherò stasera eh, quindi Infatti, oggi compriano di Giuseppe Þetta è vero ma cosa tutto a a a a a a a a a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, vediamo chi fa di più in questo video. Grazie a tutti. 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 Ciao.